il ponte ferroviario in cimento armato buongiorno a tutti qua ci troviamo a traghetto in via morgone uno dei posti fatti da tomber funi e ferro questo passaggio a livello era una volta senza barriere perché le campanelle suonano di continuo ecco il treno proveniente da porto maggiore diretto a bologna centrale deve essere un flirt o un attivo oppure una oppure una tripla composizione di che so di 663 è un flirt è un flirt è un flirt direttamente a bologna centrale arrivederci